I'm a fucking rat, I'm a world before I am a man, I was a queen Ok, bene gente, rieccoci qua a una nuova puntata del Let's Play di Nightmare House E oggi sono qui con un duo al commentario perchè vi avevo promesso che c'era qualcuno Perchè io mi caccavo addosso da solo e qui con me c'è Darnut Predator Salve a tutti Ok, abbiamo anche un timer ora così non farò video estremamente lunghi Pallosi, molto pallosi alcuni No Sì Sì, vi ricordate la voce, quello che ha fatto Pes con me, che non aveva ricevuto molto successo Allora, eravamo rimasti qua Di certo non per colpa mia Allora, la colpa è la mia? Vabbè Ok Allora, eravamo rimasti qua e dovevamo mettere il fusibile It's a fucking fusibile with a red nose Ok Chiuditi Va bene Ok C'è il latte di penumbra Che ne dici del latte di penumbra, ti piace? Quando ho finito il video me lo farei assaggiare È parzialmente Ah Prendilo, posso servire No, queste sono le pillole Chiudiamo perché ho paura Ok Allora, danger Restrict area Oddio Che cazzo ho fatto? Oh Oddio 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 wow ma si incazza del mio sito che cazzo è ma fa pure bambina di merda non c'era mai la sentita tu non senti ok o poverino che ne dici questo buon città simpatico oddio no 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 che cazzo è quel dottore di merda no non c'ha visto ha la precedenza lui si loro hanno la precedenza perchè sono molto più brutti vaffanculo c'ha anche chiuso la porta oh ma va si te giochi poi mi dici ok mani di merda e ti parevano i condotti tu sei brutto tu non ti svegliare appena passa da qualche parte non aveva la testa ha perso la testa per la dottoressa ci si farà ci si farà oh yeah vai condotti ti ricordo che sono le i posti più tranquilli perchè di certo non spuntano i mostri a parte il vermone di penumbra detto fatto detto fatto dai andiamo avanti facciamoci coraggio uno due aspetta vi faccio ricaricare la pila ok 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 calmi 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 oh oddio che schifo ok andiamo avanti si spunta la bambina maialona l'ammazzo ok non si dicono queste cose da pedofilo oddio ed no 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 6 analisi sono carini e coccolosi in verità a no bacchini go oop oop a scopo maigliano vai chi è che le fa fuori me l'hai appena detto te e ti spaventi te invece ti spaventi più te che non stai giocando qui l'energia deve fare qualcosa l'energia l'energia storage come su perché siamo tornati di qua ma qui prima non c'era lo zombie no non è morto una sceppa di minchia no oh l'ho vista l'ho vista la bambina maialona no è meno male stai giocando con l'ipod stai giocando con la custodia dell'ipod no non è vero stava giocando ok allora cosa abbiamo detto che cazzo è che parla è sempre la stessa bambina di me qui prima non c'erano dei mostri c'è una gamba ha lasciato oh hanno aperto la porta però è la bambina ringrazia sempre ringraziala vaffanculo anche a te grave mail di merda se stai guardando il mio video oh 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 oddio no 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 vaffanculo aiutate oddio no io p... no no le ho paura no sai che io ho paura dell'infinito oh siamo avanti non mi piace no si spunta la bambina io mi copro gli occhi io mi copro gli occhi te lo dico io eh te lo dico io eh no no guardo dai guardo allora me li copro io ok non ho neanche la pistola flashlight non ce l'ho oddio oh pia oh oh leo vai te guardate io ho paura io sento i rumori ma non... c'è una sedia c'è una bambina aaaaa no no leo no sai cosa devi fare caricamento caricamento sta ceppa di minchia non si può giocare così dai no sto sudando come un porco io lo ammetto vabbè facciamo i saluti allora ok allora io saluto saluto la nonna di Manu HD e no sono nell'acqua no mi rifiuzi se sono nell'acqua di giocare io ho paura dell'acqua nei giochini oh sento parlare oh no c'è una luce nell'acqua non ci sono l'acqua ok quindi non siamo nell'acqua sono le meduse nell'acqua e qui non ci sono le meduse oh no ma oh lascia eh flashlights si ma i tance chi sono le meduse? mmm io porterai una meduse ho una pistola it's a fucking pistola with a 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 cos'era quel maialo? è un bravo è un anoressi oh my god questo non mi piace te lo dico da sotto è stronzo era c c c c c c oh ho capito yes no è mai lontano niente eh ha fatto così ecco visto c'ho fatto eh ora vengono gli mostri perchè c'è il fuoco sicuramente no non lo spero i momenti che non è così no storage it's a fucking storage with a rednum oh it's a fucking medicate oh ciao ciao eh ok tier di mini mhm te leggi perchè io non lo voglio io non so leggere ah aspetta 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 c'è qualcosa per noi be careful stai attento oh yeah go back to the laundry room behind the third washing machine ti fanno il bagno ti fanno il bagno ti fanno il bagno non mi insanguinare addosso it's a washing machine ok ah dopo la tiered la terza che vuoi l'idraulico sono io l'idraulico l'ho detto anche nel primo eh p ok ha detto dietro la cosa hai visto? eh quello lì ma se lui lo sa perchè non ci va lui apposta ah vaffanculo 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 che cazzo era? no io non ci gioco questo gioco io non ci gioco no 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 chi è che bussa nei cosi nei condotti di merda di merda di cuore uno che non ha un cazzo da fare tutto il giorno e esistono anche queste persone eh lo so wow ah un acquapark un acquapark persone non persone si per modo di dire si zombie maialoni omosessuali yeah oh or my fucking apri apriamo no 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 perchè mi hai detto di aprire quando non devi aprire questi cazzo di 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 che cazzo di eredite che io ora mi tocca andare danger unita mancia mancia ma è danger lui entra tranquillo non nasce amico con una pistola non nasce ah è giusto allora c'è anche te che è successo? non l'ho sentito è caduto lo scaffale servono anche un falegname ora perchè puzzi e addorato che c'entro io che puzzi oh my god aia che cazzo è? chi è? mamma mia piano 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 sti scherzi non sono non mi fanno neanche la cazzo di torcia di merda di cuore oh my god chi è che mi ha colpito? un piccione che ha molto probabilmente ma no no a parte scherzi qualcosa mi ha colpito io vado avanti però non ti che non si rivele i figli eh ah sti cazzo di fusibili di merda chissà che mi ha colpito eh ah ma ho riattivato la luce? oddio oddio parte sto coso oh my god oh my god oh my god ah! maialona di la tua mamma caccia maiala ora ve l'ha fatto dire ok partito ragazzi apriti ehm se volete fateli poi Oddio, 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 oddio Mutti di 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 Ciao Patiamo, parliamo Io sono bravo Non so neanche se so parlare l'italiano Ora so aprirà sto co- Oddio Ciaoegna Ciaoegna ma sta ceppa di micchia Va bene Apriti Non si apre Ti pareva Wow Si è aperto You're fucking Mi hanno colpito di nuovo Andrebbero a smettere di questo No it's a fucking Mi sono rotto le palle Leo non vedo niente Maremma Maremma cane Bau Bau No Bau Bau Sta ceppa Ah Ah Anzi Zulta la bambina Bambina cane No No Non la fare incazzare Che dopo viene Ah Merda Tu non hai sentito niente E Lo so che ti ho fatto prendere una Ma un po' te No Io prendo la pistola No Non mi merita Non mi merita Leo non vedo un cazzo di niente Senta anche di rumori spastici Oddio Ho visto un AHHHHH 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 AHHHHH